Ora parliamo di natura ma da un punto di vista particolare, ossia quello della macchina fotografica, perché proprio in ambito naturalistico il cremonese Giuseppe Bonali, grande appassionato e nostro ospite in studio questa sera, fino ad ora ha conquistato moltissimi premi non solo in campo nazionale ma anche in ambito internazionale, ritraendo soggetti come formiche, farfalle, campi fioriti e proprio per parlare di questa sua passione è nei nostri studi. Bentrovato. Buonasera, grazie dell'invito. Una passione dunque questa che nasce anni fa e che ti ha portato anche a sviluppare un certo tipo di tecnica particolare. Sì, io sono appassionato di fotografia, macrofotografia, fotografo della natura in generale, paesaggi, eccetera, ma soprattutto la macrofotografia è quella che perde l'Igo. Uso una macchina semiprofessionale e una professionale per fare queste immagini, uso degli obiettivi specifici e non mi dispiace neanche fotografare gli uccelli, i mammiferi, eccetera, ma la macro è nel mio cuore dagli anni 90, da quando ho iniziato. E questo presuppone anche una certa dose di pazienza, di calma, vero? Molta pazienza, soprattutto pazienza. Io ho imparato praticamente con la pratica, ho studiato un po' all'inizio, ma dopo ho visto che la pratica mi aiutava a capire meglio le cose, anche perché il tempo a disposizione alla sera di studiare non avevo abbastanza tempo, quindi preferivo fotografare per imparare sul campo, ecco. Che è la cosa migliore. Sì, sì, soprattutto l'esperienza ti rimane dentro molto di più impressa nella mente, no? Quindi puoi provare, riprovare, capire i tuoi errori e portare, diciamo, la tua esperienza a compimento, ecco. Posso dire che ci sono pochi segreti per quanto riguarda la classica macrofotografia. Che è tutta fatta, come dicevamo, sul campo, nel senso che non ci sono poi elaborazioni particolari. Ecco, ci tengo a dirlo che facendo concorsi internazionali è molto importante ottenere risultato subito durante lo scatto, no? È vietato usare una post-produzione esagerata. Infatti loro ti chiedono l'originale, quando il momento, se sei a premi nei concorsi, ti chiedono l'originale per verificare che non hai alterato l'immagine o usato troppo Photoshop. E questo appunto ti ha portato, ci diamo del tuo, a vincere numerosi premi, soprattutto in campo internazionale. Premi molto ambiti, molto importanti, di varie riviste, ma non solo. Sì, sì, sì. No, beh, io amo fotografare la natura e soprattutto mettermi in gioco, no? Ho fatto parecchie mostre, ne ho fatta una qua a Cremona, poi l'ho fatto al Museo di Storia Naturale, l'ho fatta a Crema al Museo di Storia Naturale, ma amo molto, un pochino, competere con i grandi fotografi internazionali e ho ottenuto degli ottimi risultati. È una sfida sempre. Ma sì, è una sfida anche perché mi aiuta a impegnarmi e a migliorarmi in continuazione. Infatti ho cambiato diversi stili in base anche al momento e alle idee che mi venivano e anche guardando gli altri fotografi, perché imparo molto degli altri fotografi. Mi piace guardare le persone che sanno fotografare. Le zone prescelte sono quelle della pianura padana? Sono soprattutto nella zona, attorno al mio paese, comunque nella pianura padana, in provincia di Cremona soprattutto, qualche volta vado in montagna, tutto quello che faccio lo faccio con lo scopo soprattutto di creare un'immagine che sia un po' più artistica. Non amo tanto documentare, ma la mia immagine deve essere bella. Gli impegni sono sempre continui, perché comunque la passione è continua. Un'altra cosa, cerco di essere originale il più possibile. La mia macrofografia deve avere qualcosa di artistico, cosa di originale nei miei limiti chiaramente, perché di nuovo è difficile creare qualcosa di nuovo, però cerco di non essere banale, tra virgolette, non è una brutta parola, non intendo dire questo. Una buona immagine è comunque sempre una buona immagine, anche se è classica. Io cerco di fare qualcosina in più. Di innovare sempre. Cercare di rinnovare e rinnovarmi soprattutto. Certo. E questo porta naturalmente ad affrontare numerose sfide. Quindi rinnoviamo l'appuntamento prossimamente. Oggi ringraziamo Giuseppe Bonali per essere stato con noi, per averci regalato questi bellissimi scatti. Grazie. Grazie a te, grazie dell'invito. Buonasera a tutti. Grazie.